Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per domenica 19 novembre 2023. L'alta delle azzorre inizia ad assumere disposizione meridiana in oceano. Nel mentre, sul suo bordo orientale è attiva una profonda depressione che continuerà ad insistere sui settori nord-occidentali europei, richiamando aria polare. Tale depressione inizierà poi il suo moto verso sud, gettando le basi per un primo attacco invernale a più basse latitudini. Nel frattempo vi sarà una pausa di stampo anticiclonico in area mediterranea. Ancora molto freddo su Scandinavia e Russia. Previsioni meteo in area italiana per domenica 19 novembre 2023. Nord. Cieli poco o parzialmente nuvolosi con nubi più compatte sulla cresta alpina di confine, dove in mattinata non si escludono sporadiche nevicate. Formazione di banchi di nebbia in Valpadana a nottetempo e di primo mattino. Dalla sera aumenta la nuvolosità di tipo basso sulla Liguria con fattibili piovigini sul settore di Levante. Centro. Poche nubi al mattino con locali banchi di nebbia nei fondovalle. Dal pomeriggio inizia ad aumentare la nuvolosità di tipo basso sulla Toscana, che diverrà compatta dalla sera, quando non si escludono piovigini sul centro-nord della regione. Sud e isole. Stabile e soleggiato su tutte le zone con tendenza dal tardo pomeriggio ad un aumento delle nubi medio-alte sulla Sardegna, in estensione al comparto basso tirrenico. Temperature massime nel complesso stazionarie, salvo dei leggeri aumenti laddove vi sarà maggiore soleggiamento. Minime stazionarie su tutte le zone, su valori piuttosto bassi nelle vallate a causa dell'inversione termica. Ventilazione in rotazione e rinforzo dai quadranti occidentali iniziando dall'alto tirreno, dove dal pomeriggio si avranno delle raffiche fino a forti. Mari generalmente mossi, a tratti agitati tra basso adriatico e ionio. Tendenza in area italiana per lunedì 20 novembre 2023 e martedì 21 novembre 2023. Tempo in graduale peggioramento a partire da lunedì con nubi in netto aumento lungo la fascia tirrenica, accompagnate da piogge sparse. Forte maltempo da martedì per l'approfondimento in sede centrale tirrenica di un profondo minimo depressionario. Attese piogge diffuse e temporali sulle isole e su tutta l'area peninsulare. Tale ciclone richiamerà aria fredda dai Balcani che consentirà il ritorno della neve sulle maggiori cime appenniniche, in calo di quota. Crollo termico da martedì con forti venti. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.